e che bel posticino questo è molto molto carino ah ma che bello devo arrivare lassù per favore per favore fatemi arrivare lassù qua ci abbiamo cosa ho fatto cos'è sta roba ok ho tirato piglia ok adesso come esco però scusa no sono morto che figata che figata assurdo alessi abbiamo fatto cos'è questo coso che balestrata e però ma è però non è morto sto coso bastardo che posticino carino ah ma porca ah c'è un gatto là arrivo là e non c'è arrivo che rotola rotola ok bene devi aprire e ho capito che devo aprire sta gatta cosa è successo ah qua c'è un libro bello sto libro no,no,no,no,no sono quasi morto incredible, ok aspetta,adesso questo dovrebbe, dovrebbe buttiamola giù,vai...oh abbiamo spaccato,oh vai,hべ visto che c'erano le frecce qua,dai Che figata Ma no, ma ho distrutto Ma non ci posso credere Perfetto, vai Che vai Prendi questo brutto essere Immondo, c'è qualcuno qui Qualcosa che devo usare, appunto Il piccone Vai, vai, diventa Minecraft Vai Minecraft forever Che figata sta mossa Cos'è? C'è una pietra lì Riusciremo Riuscirà il sottoscritto Ad arrivare dall'altro lato senza morire Gnacchete No Ah, è la porca La porca della porca Allora, là c'è una chiave Ma non posso andare di là perché Ah, ma, ma It's the dream Grazie a tutti